Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto a nome dell'Università del Piemonte Orientale in questa parte più moderna della struttura universitaria e soprattutto oltre al piacere di darvi il benvenuto è un particolare piacere di moderare due colleghi che mi hanno seguito nel lavoro del nostro gruppo di fisiatri della Università del Piemonte Orientale che da sempre nel suo background sia clinico che culturale che di ricerca si è occupata della salute dell'osso. La salute dell'osso è fondamentale per motivi assolutamente comprensibili perché noi siamo fatti di e sostenuti dall'osso, è ovvio, l'osso si può rompere e può assolutamente peggiorare la qualità di vita durante i fenomeni di invecchiamento. È sostanziale pertanto procedere a dei processi clinici di prevenzione per non arrivare a questi fenomeni. Ora purtroppo il Covid ha modificato, lo dico da clinico, nel sentire comune anche l'importanza della salute dell'osso. Questo non solo tra i pazienti ma anche tra i medici. In realtà questa riduzione del sentire non ha assolutamente ridotto l'incidenza delle fratture. Tutti che si occupano sanno banalmente che abbiamo in Italia circa 100.000 fratture di femore all'anno, fratture di femore all'anno che costano circa un miliardo di euro, esattamente come l'infarto del miocardio e il sentire per la prevenzione dell'infarto del miocardio, giustamente e ad alto livello, il sentire per la prevenzione delle fratture di femore è sicuramente molto ma molto meno. E questo è purtroppo un errore di concettuale che noi dovremmo cercare di combattere. E pertanto a questo punto darei la parola al mio co-relatore che è il professor Marco Minetto, che è il professor associato di medicina fisica e riabilitativa dell'Università di Torino e a cui do la parola. Grazie, grazie al professor Cisari. Benvenuti a tutti, mi fa molto piacere aprire i lavori di questa sessione sia per l'argomento ma anche per gli amici e i colleghi che parlano, il primo di quali è il professor Invernizzi, direttore della scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitativa dell'Università di Novara, che ho il grande piacere di introdurre e con il quale ho il grande piacere di lavorare spesso in ambito accademico, lezioni e attività di ricerca. Il professor Invernizzi ci parlerà di patogenesi e meccanismi molecolari dell'osteoporosi. Prego. Grazie mille a entrambi i moderatori per l'introduzione sia per il cappello del professor Cisari che è fondamentale per quello che poi affronteremo in questa sessione. Ovviamente mi unisco al piacere nella codivisione didattico e scientifica su questi aspetti, tra l'altro in gran parte col professor Minetto. Ecco, io apro appunto questa sessione partendo proprio dall'ABC e quindi andrò a vedere con voi in maniera molto semplice, però poi entrando un pochino più nel dettaglio, quali sono i principali meccanismi fisiopatologici alla base dello sviluppo di osteoporosi, quali sono le novità e anche e soprattutto quali sono i potenziali patuei molecolari coinvolti, argomento fondamentale sia per migliorare la diagnostica ma soprattutto per trovare nuovi approcci farmacologici sempre più performanti e personalizzati sulle caratteristiche del paziente. Allora, l'osteoporosi, questa è una definizione che probabilmente conosciamo tutti, quindi malattia sistemica dell'apparato scheletrico, bassa densità minerale ossa, ma anche deterioramento della qualità quindi della microarchitettura e quindi aumento della fragilità. Come giustamente è stato detto, il problema principale sono le fratture che appunto si manifestano, le classiche vertebra e femore, ma anche, non dimentichiamo, il polso e che hanno appunto tutta una serie di problematiche e non ultimi costi estremamente importanti. Ecco, altro passaggio fondamentale, anche qui magari vi dico delle cose che già conoscete, però è importante per capire meglio quello che diremo dopo, la classificazione individua due grosse tipologie di osteoporosi. La prima, la classica osteoporosi, come perdonatemi il termine possiamo definirla, primitiva, che vede nella postmenopausale e nella senile le due principali sottocategorie, e poi un capitolo sicuramente con una prevalenza inferiore, ma che devo dire, negli ultimi anni invece sta assumendo sempre più interesse, proprio perché se ne scoprono sempre di più, il capitolo appunto delle secondarie, che quindi originano per problematiche in altri distretti e anche spesso, anzi purtroppo e soprattutto, legati ad alcuni trattamenti, alcuni approcci terapeutici proprio per altre malattie. Due parole appunto sulla primaria, vi dicevo postmenopausale e senile, perché le donne hanno un rischio maggiore, questo è abbastanza intuitivo, non c'è gender balance purtroppo in questo caso, ma perché è il picco di densità minerale ossea inferiore, ma soprattutto qual è l'evento più drammatico che determina lo sviluppo della postmenopausale, appunto il calo estrogenico che osserviamo nelle donne nel postmenopausa. Dove si gioca gran parte del discorso osteoporosi? Si gioca sostanzialmente a questo livello. Noi abbiamo due grosse componenti cellulare, una fa una cosa, l'altra ne fa un'altra, sono gli osteoblasti e gli osteoclasti, uno è fondamentale gli osteoblasti per la formazione di os, quindi della neopposizione, l'altro l'osteoclasti invece per il riassorbimento. Hanno anche proprio due origini completamente diverse, ci ritorneremo perché ha una sua importanza, e tra di loro interagiscono anche in maniera molto stretta con alcuni pattuei molecolari che sono tra l'altro tra le principali sedi attuali di target terapeutico farmacologico proprio per l'osteoporosi. Normalmente cosa succede? Noi abbiamo quattro fasi, proprio perché è un tessuto metabolicamente attivo l'osso. Abbiamo una prima fase in cui si attivano i macrofagi e si trasformano in osteoclasti, che è una sorta di macrofago un po' più arrabbiato rispetto al macrofago classico. Questi degradano in parte la superficie ossea. C'è una fase di inversione, quindi gli osteoblasti si attivano differenziandosi da dei precursori e diventano metabolicamente attivi, formano nuovo osseo e in condizioni fisiologiche vedete questo processo continuo e noi abbiamo una sorta di mantenimento dello status normale dell'osso. Cosa succede? In alcuni casi, tra cui appunto il calo estrogenico, comunque la riduzione degli estrogeni che vediamo in menopausa, prevalgono i fenomeni di riassorbimento e si riducono ovviamente quelli di neoposizione. Qual è la chiave? Lo vedete appunto questo calo osservato in maniera drammatica successivo, immediatamente successivo alla menopausa nella densità ossea perché soprattutto dove andiamo ad agire in questo particolare tipo di osteoporosi a livello appunto del rancligando, che è uno dei principali fattori che promuove la differenziazione degli osteoclasti, quindi li attiva. Se non ho gli estrogeni che bloccano questa via, ho un aumento del numero degli osteoclasti, un aumento della loro attività e quindi aumenta il riassorbimento osseo. Perdo appunto BMD, quindi massa ossea, e dove questo avviene tipicamente in queste donne soprattutto nei corpi vertebrali perché sono sede di un tessuto metabolicamente più attivo e quindi caratteristica è la perdita nella post-menopausale prima a livello vertebrale. Però c'è un però, cioè noi potremmo smettere di parlare di osteoporosi a questo punto. In realtà, come vi dicevo, c'è tutto un mondo che è quello delle cosiddette osteoporosi secondarie che come vedete trova una serie di cause estremamente diversificate. Guardate quanti apparati, quante patologie croniche, quanti anche trattamenti vanno in qualche modo a promuovere lo sviluppo di osteoporosi a livello osseo. Ok? E spesso con dei meccanismi diversi da quelli visti nella post-menopausale. Ok? Ecco, tra i pathway più interessanti negli ultimi anni sicuramente non si può non citare quell'osteocitario. Come vi dicevo prima, si è sempre visto quasi solo osteoblasti e osteoclasti. In realtà esiste un terzo tipo istologico che è l'osteocita, che non è altro che un osteoblasta in quiescenza, che termina la sua parte metabolicamente attiva, cosa fa? Va a incistarsi nelle lacune, vedete questi piccoli buchini a livello degli osteoni e delle lamelle, e lì che cosa fa? Diventa un recettore del carico. Quindi sono cellule fondamentali nella meccanotrasduzione. Ok? E questo viene anche da delle caratteristiche peculiari del loro citoscheletro. Vedete, formano una fittissima rete, un network all'interno dell'osso, che praticamente serve a percepire il carico meccanico. Se c'è un carico corretto avremo tutta una serie di signali molecolari, tra i più importanti, vedete banalmente Rangligando, ma anche l'osteoprotegerina per gli osteoblasti, la sclerostina, che è stata ed è recentemente target di uno dei farmaci più innovativi entrati in commercio per la prevenzione dell'osteoporosi. Se non ho un carico adeguato, allora parte un eccessivo riassorbimento. E anche alcune caratteristiche, visto che dobbiamo anche dare dei suggerimenti molecolari, li troviamo proprio anche sulle proteine di membrana, delle ciglia, dei processi cellulari, degli osteociti, che sono appunto, come vi dicevo, dei mediatori della meccanotrasduzione. E potrebbero essere, qui ne vedete due, S1P e AC6, potenziali target per lo sviluppo di nuovi farmaci proprio per facilitare la formazione ossea e inibire il riassorbimento. E in questo, devo dire, in riabilitazione, ed è stato anche parte negli ultimi anni dei miei interessi in ambito scientifico, abbiamo un modello che di questo network fa forse quello principalmente deputato allo sviluppo di osteoporosi, che è appunto il paziente mieloleso, che se ci pensiamo è l'esempio classico di osteoporosi da scarico, simile all'allettamento prolungato o all'assenza di gravità. Ecco, qui abbiamo tutta una serie di conseguenze rapide e devastanti in termini di aumento del rischio fratturativo enorme, soprattutto sotto lesionale, quindi a livello degli arti inferiori, ma qui, più forse che in altre osteoporosi secondari, ritroviamo come tutta una serie di meccanismi fisiopatologici dall'infiammazione a impairment ormonale, a fattori anche biochimici e aumento, per esempio, dello stress ossidativo, vanno a determinare un'ostoporosi estremamente aggressiva, rapida e molto molto grave in termini di aumento del rischio fratturativo. E qui, infatti, vediamo come convergono tutta una serie di pathway diversi, sia, famosissimi infiammatori, quello dell'interleuchina 6, del TNF-alpha, ma anche proprio una sorta di impairment a livello endocrino, per esempio le vie dell'IGF1, il più potente stimolo anabolico che noi abbiamo a livello periferico, la carenza dello stimolo androgenico, che quindi promuove il riassorbimento osso e penalizza la neoformazione, e ovviamente il sistema WINT, che è uno dei principali per, appunto, la neoposizione ossea. E in questo anche capiamo che forse quello che noi andiamo a vedere in questi pazienti, in generale, nell'osteoporosi secondaria, a livello diagnostico, non è proprio quello che ci dà tutte le informazioni. E infatti, questo sarà un problema che sicuramente emergerà nella relazione successiva, non la sola quantificazione della BMD, quella della componente mirelare ossea misurata tramite la DEXA, spesso non ci dà un quadro estremamente chiaro, comunque non ci dà una reale percezione di com'è veramente la situazione. E in questo, appunto, uno studio pilota svolto, appunto, in collaborazione con l'Università di Torino e il professor Minetto, su un campione abbastanza ampio di pazienti mielolesi, proprio ha voluto validare una nuova metodologia che ci darebbe, o comunque ci potrebbe dare, oltre alle informazioni quantitative della DEXA, anche delle informazioni qualitative, che in questi pazienti forse sono le più importanti. Metabolomica. Allora, che cos'è? Forse non sono la persona più adatta a spiegarvelo, però da quel poco che so, è appunto ricavare da metaboliti di diverse categorie di composti organici meccanismi utili a capire una determinata patologia. E in questo caso i meccanismi alla base della perdita ossea. Perché sono importanti? Perché da questi potremmo evincere dei biomarcatori che potrebbero aiutarci, magari ecco in queste osteoporosi un po' più diverse a livello fisiopatologico da quella post-menopausale, a capire meglio il problema, a perfezionare la diagnosi e magari anche ad avere degli strumenti terapeutici in più e più performanti. E anche qui devo dire sempre su questo esempio del paziente meloleso, negli anni abbiamo cercato di individuare dei biomarker, proprio perché la sola BMD non ci soddisfava, che andassero a darci delle informazioni in più sul perché questi pazienti avevano una osteoporosi più grave, più rapida e che seguiva dei meccanismi fisiopatologici diversi da quella post-menopausale. E ci siamo concentrati su uno dei principali prodotti degli osteociti, quindi della percezione della meccanotrasduzione, che è appunto la sclerostina, che ci ha dato appunto delle indicazioni interessanti, tant'è che appunto ad oggi recentemente è entrato in commercio un anticorpo monoclonale antisclerostina. Purtroppo non l'abbiamo scoperto noi, però chiaramente questo ha contribuito anche a darci delle informazioni in più su come il carico sia importante. Ma biomarcatori si possono applicare anche a un altro intervento non strettamente farmacologico, che poi verrà appunto spiegato essere fondamentale per la gestione corretta di questi pazienti e il mantenimento anche a livello preventivo della massa ossa, che è l'esercizio terapeutico. E qui l'abbiamo recentemente visto in un'altra osteoporosi secondaria estremamente grave, che è quella nel tumore mammario, e siamo andati a vedere appunto come sia possibile magari individuare dei biomarcatori sensibili alle modificazioni indotte a livello osseo dall'esercizio. E abbiamo trovato tutta una serie di dati estremamente interessanti, alcuni sono dei biomarcatori già noti, altri un po' meno, per chi avvezzo un pochino alla parte clinica, in osteoporosi, e anche questo quindi andare a valorare un altro intervento, che normalmente purtroppo viene poco considerato. Altro capitolo fondamentale, rapporto tra osteoporosi e sistema immunitario riguardo appunto ai meccanismi fisiopatologici. Queste sono due revisioni molto recenti, secondo me estremamente complete e chiare, di cui vi porto alcuni concetti importanti, anche perché, ripeto, non sono un immunologo, però già da qui vediamo come ha sia la componente adattiva che quella innata del sistema immunitario, in ciascuno dei suoi tipi cellulari, ha uno strettissimo legame, vedete, a livello citochinico, col tessuto osseo. Ma soprattutto vedete come in alcuni casi, e tipicamente in condizioni infiammatorie croniche, o in condizione di deficit estrogenico, cosa succede? Vedete, tutta una serie di diversi tipi cellulari immunitari iniziano a produrre una serie di citochine che sbilanciano l'equilibrio a livello del metabolismo osseo verso gli ostoclasti e quindi verso il riassorbimento. Ok? Però c'è un altro tassello fondamentale. Microbiota intestinale, se ne parla tantissimo, negli ambiti più diversi, quasi ogni patologia cronica riconosce in uno squilibrio del microbiota un potenziale meccanismo fisiopatologico e il sistema immunitario e l'osso non sono da meno. Gatti, immune, bone axis, muscle, gut axis, bone joint, gut axis, quanti di questi assi sono stati individuati dalla letteratura negli ultimi anni. Qual è il meccanismo fondamentale? È quel meccanismo che vede nell'allentamento dell'integrità della barriera intestinale uno stimolo infiammatorio a basso grado che è alla base di quel fenomeno chiamato inflammation che, guarda caso, troviamo in tantissime patologie croniche diverse. E l'osteoporosi non è da meno. Infatti vediamo come nella slide a destra appunto questa problematica a livello della barriera intestinale vedete, va a promuovere attraverso uno stimolo infiammatorio cronico a basso grado che cosa? Attraverso cellule del sistema immunitario citochine che vanno a promuovere la differenziazione e l'attività degli osteoclasti. Quindi in qualche modo peggiorano l'osteoporosi di questi pazienti. E vedete appunto a sinistra come il macrofago che è il precursore dell'osteoclasto sia un target importantissimo di tutta una serie di meccanismi fisiopatologici che vedono nel sistema immunitario sicuramente un apparato, un sistema che svolge un ruolo fondamentale. L'ultimissima parte visto che dovevo parlarvi appunto di meccanismi fisiopatologici e aspetti molecolari è forse un po' una delle ultime frontiere in ambito molecolare che sono appunto i microRNA. Che cosa sono? Praticamente sono delle piccole molecole di RNA endogeno non codificanti che però hanno un'importantissima attività regolatoria nell'espressione igienica post-trascrizionale. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che mi permettono se individuo un pathway preciso individuo il microRNA in grado di agire su quel determinato pathway possa andare in maniera estremamente precisa a modulare quel determinato pathway. E come in altre patologie croniche anche nell'osteoporosi abbiamo, vedete, tutta una serie di microRNA identificati che intervengono in tantissime vie diverse in tantissimi punti. Ad esempio in questo caso vedete della differenziazione degli osteoblasti e quindi sulla neoformazione ma anche vediamo a livello degli osteoclasti. Ok? Quindi sicuramente è un qualcosa di estremamente affascinante una sorta di applicazione indiretta della medicina di precisione sia come biomarker quindi anche come potenziale diagnostico ma anche come potenziale sviluppo di nuovi target terapeutici ovviamente farmacologici. Tutto bellissimo però ovviamente anche qui la letteratura recentissima di quest'anno conviene sul fatto che ci sono delle prove sicuramente inconfutabili su un'associazione tra appunto degli squilibri nell'espressione nella regolazione dei microRNA riguardo all'osteoporosi nel tessuto osseo tuttavia ad oggi traslare questi risultati è estremamente estremamente difficile. E concludo questa chiacchierata fatta con voi appunto riprendendo diversi temi che ho affrontato in questa presentazione perché allora praticamente ed è già emerso un pochino chi era in Aulamagna nella presentazione precedente in varie come dire in vari interventi la necessità di un approccio multidisciplinare alle patologie dell'invecchiamento e lo stesso vale per l'osteoporosi perché perché praticamente comprendendo meglio i meccanismi fisiopatologici alla base dell'osteoporosi che cosa succede? Ci rendiamo conto che molti sono comuni ad altre patologie dell'invecchiamento che vedono per esempio nei processi infiammatori cronici come vi ho descritto ma in un altro grande filone che è la disfunzione mitocondriale dei patoi comuni uno su tutti l'equivalente o comunque il simile dell'osteoporosi a livello muscolare che è la sarcopenia e tutti i disturbi neurodegenerativi a livello del sistema nervoso quindi il messaggio qual è? Capire meglio integrare approccio interdisciplinare e da qui sviluppare degli interventi il più possibile precisi efficaci e personalizzati sulle necessità dei pazienti e in questo prima di arrivare alle conclusioni prospettive future in questo ambito ecco cercare le basi appunto di quello che vi ho detto prima e qui il primo passaggio che è già avvenuto da diversi anni perché è ormai da dieci anni che si teorizza il concetto del crosstalk tra osso e muscolo appunto di vedere similitudini e vicinanze nei meccanismi fisiopatologici tra tessuti contigui e se parliamo di osso è impossibile non considerare anche l'apparato muscolare e qui abbiamo tutto un filone non solo di spiegazione a livello fisiopatologico ma anche a livello proprio di trattamento che vede appunto in approcci integrati sia farmacologici ma anche legati ad apporto nutrizionale e esercizio terapeutico la possibilità di andare a colpire contemporaneamente più meccanismi e più patologie diverse in questo caso appunto l'osteoporosi e la sarcopenia non ultimo anche l'idea dei dual agents che è un'idea che è molto supportata in ambito di ricerca farmacologica proprio di provare a sviluppare visto la congruenza e la convergenza di diversi meccanismi fisiopatologici un farmaco che magari è in grado di agire su tutti i due tessuti contemporaneamente e tralascio ovviamente tutte le implicazioni in un ultimo anche sui costi e quindi concludo come vi ho detto l'osteoporosi quindi una patologia cronica che riconosce per quanto riguarda la primaria dei meccanismi fisiopatologici molto ben chiari e studiati ma in realtà come vediamo potrebbe essere molto più complesso di quello che si è sempre pensato e soprattutto e questo è lo stimolo anche visto la platea multidisciplinare anche dei meccanismi molecolari molto molto diversificati sicuramente gli estrogeni giocano un ruolo fondamentale ma non sono gli unici importante la meccanotrasduzione ovviamente per il futuro il sistema immunitario e i microRNA importantissima l'evoluzione verso il crostol osso muscolo proprio per avere un approccio terapeutico integrato più efficace su queste problematiche dell'anziano e chiaramente quindi il messaggio per il futuro è che la ricerca deve cercare appunto di tirare le fila di tutto questo partendo appunto dal molecolare dalla fisiopatologia alla diagnostica e poi alla terapeutica il tutto come diceva appunto il professor Cisere in apertura per cercare di ridurre il problema enorme non solo sanitario ma anche socio-economico delle fratture da fragilità su base osteoporotica io ringrazio tutti quelli con cui ho collaborato in questi anni e nel fare questa presentazione mi sono reso conto sono veramente tanti il nostro gruppo a Novara assieme appunto al professor Cisere il professor Baricic il professor Carda che si è spostato all'Osanna all'ospedale universitario di Lausanna i miei mentori il professor Nader della UTA teorizzatore delle bone masculine interactions il professor Nader grande esperto di modificazioni indotte dall'esercizio sull'osso e sul muscolo il professor Fusco dell'OIEO per tutto quello che riguarda la gestione riabilitativa dei pazienti con tumore della mammella e i miei allievi colleghi di UPU e da ultimo il professor De Sire con cui abbiamo condiviso qui gioie e dolori durante la pandemia grazie per l'attenzione ne è prevista una discussione alla fine alla fine delle due sì alla fine delle due ok ringrazio il professor Marco Invernizzi a parte per la qualità della relazione ma anche per aver sottolineato l'importanza della riabilitazione nello studio e nel trattamento dell'osteoporosi si è visto chiaramente dell'importanza della patologia dell'osso nell'ambito delle disabilità acute e croniche perché il collega ha parlato ovviamente della mielolesione ma non dimentichiamo che analoghi problemi magari non così drammatici ma trascurati purtroppo alcune volte sono nell'ambito dello stroke anche qui con numeri elevatissimi e nell'ambito anche della sclerosi multipla anche per citare le patologie disabilitanti più diffuse da un lato questo aspetto perciò di gestione della disabilità cronica in ambito riabilitativo che non può prescindere dalla sanità dell'osso dall'altro l'importanza dell'esercizio terapeutico tipico arma terapeutica della riabilitazione dell'esercizio sia di per sé stesso meccanostato abbiamo fatto grandi passi avanti dal meccanostato della fine dell'ottocento ovviamente allo studio della scherostina per vedere anche il crosto cosso muscolo nella sua fondamentale importanza per essere pertanto la seconda relazione dalla teoria alla pratica se posso dire presento con molto piacere il professore Alessio Varicic professore associato di medicina fisica riabilitativa nonché direttore della struttura complessa di fisiatria dell'ospedale maggiore della carità nel cui ambito è insito sia funzionale sia l'unità spinale che è unico quadrante di riferimento del quadrante e anche un ambulatorio del metabolismo osseo che negli ultimi vent'anni ha fatto un po' la storia di questa patologia nell'ambito della nostra territorio di riferimento a te Alessio grazie grazie ai moderatori grazie agli organizzatori e grazie al professor Invernizzi perché ha lanciato tutta una serie di spunti che da una parte sono di grande attualità e grande utilità e dall'altra però fanno emergere come in realtà quelle che sono attualmente le evidenze disponibili ma non solo anche l'aspetto diciamo normativo legato alla terapia dell'osteoporosi si è ancora in molti ambiti ancorato a un quadro che è ancora piuttosto distante da quelli che sono i modelli biologici alla base dell'osteoporosi come abbiamo visto ci sono parecchi elementi interessanti e in realtà molta dell'evidenza in letteratura attualmente per quella che è la terapia si rifà a modelli che hanno in realtà alla base meccanismi che sono un po' diversi sappiamo lo abbiamo visto che quando parliamo di osteoporosi non parliamo tanto o non solo quanto meno di riduzione della massa ossea quanto piuttosto di modificazioni della struttura dell'osso che porta poi ad un aumentato rischio quindi di frattura che è poi il target vero della terapia farmacologica abbiamo visto Marco l'ha spiegato molto bene che ci sono diverse forme di osteoporosi il modello biologico più studiato storicamente insomma più rilevante è quello dell'osteoporosi post meno pausale ma in realtà abbiamo visto come via via le evidenze stanno crescendo anche rispetto a tutta una serie di altre patologie nella quale le modificazioni dell'osso o meglio del complesso osso muscolo e non solo sono coinvolte e impattano significativamente anche sul rischio di frattura dei pazienti il problema è che noi da un punto di vista clinico quindi quando il paziente entra in ambulatorio quello che traduciamo come osteoporosi è il numerino che vediamo su questo esame la MOC DEXA è la bone mass density che misurata con tutti i crismi ci dà un numerino che ci dovrebbe far decidere se trattare o non trattare il paziente insieme ad altri elementi se il paziente pagherà o non pagherà questo farmaco e anche questo è un aspetto importante e in realtà la MOC è quella che gli americani chiamano un marker surrogato cioè noi stimiamo attraverso la DEXA il vero problema che è il rischio di frattura e lo facciamo con l'unico strumento che da un punto di vista operativo abbiamo a disposizione e come abbiamo già visto e come vedremo questo approccio in realtà ha anche molti limiti la prima domanda è questa benedetta MOC a chi dovremmo farla e anche qui c'è un problema normativo e un problema pratico cioè a chi il medico di famiglia può fare l'impegnativa con l'esenzione per la MOC e soprattutto quando questa MOC ha un senso cioè quando ha senso andare a prendere una persona e fargli fare questo esame in realtà la letteratura qualcosa ci dice in questo senso in presenza di fattori di rischio maggiori teoricamente quantomeno nelle donne postmenopausa nei soggetti di sesso femminile l'indicazione ci sarebbe a maggior ragione nel postmenopausa per i meccanismi che abbiamo visto anche la presenza di altri fattori di rischio di minore importanza comunque ci darebbe l'indicazione a fare questo tipo di valutazione esiste poi però anche l'universo maschile un po' di gender balance facciamolo in questo senso in maniera ribaltata in realtà il 20% delle fratture capita in soggetti di sesso maschile e l'osteoporosi maschile è un ambito sicuramente meno esplorato ma che in realtà nasconde spesso anche delle insidie perché due terzi dell'osteoporosi maschile in realtà è un'osteoporosi secondaria e quindi con delle implicazioni diagnostiche e terapeutiche che possono andare anche al di là della semplice terapia dell'osteoporosi e anche qui la MOC si può fare anche qui abbiamo dei criteri che ci dicono a chi farla ma in realtà questo tipo di interpretazione si basa su una corte di pazienti quindi su numeri su cui questa derivazione standard viene calcolata che sono un po' meno robusti rispetto alla popolazione di sesso femminile e quindi come dire consideriamo lo stesso valore di cut off sapendo che però qualche limite in questo senso c'è quindi abbiamo già visto cosa vuol dire osteoporosi secondaria vedete insomma l'elenco è piuttosto ampio quindi chiaramente qui si aprono tutta una serie di considerazioni piuttosto complicate vi focalizzo solo un paio di aspetti particolari e di quadri particolari la prima è l'osteoporosi che si osserva nei pazienti trapiantati la cito anche perché Novara è un centro di riferimento per i trapianti e soprattutto di rene e in realtà il trapianto porta con sé un rischio di fragilità ossea piuttosto elevato in particolare nei soggetti trapiantati di femore è come dire un aspetto comune in tutte le tutti i pazienti trapiantati ma in particolare i pazienti con trapianto renale probabilmente per un iperparatiroidismo secondario al trapianto sono soggetti a particolare rischio e che quindi richiedono un approccio particolare e anche qui anticipo non solo farmacologico perché sono persone sui quali i meccanismi legati all'esercizio sono fondamentali anche dal punto di vista della prevenzione abbiamo detto che ci sono anche dei farmaci che predispongono all'osteoporosi vedete che alcuni sono anche di come dire uso piuttosto quotidiano pensiamo ai PPI terapia prolungata con i PPI viene prescritta a volte con un po' di leggerezza questo porta con sé un rischio considerevole di modificazioni dell'osso idem gli inibitori della ricaptazione della serotonina la levoterosina a dose soppressiva e alcuni farmaci insomma di più vecchia generazione i farmaci collegati al trattamento delle neoplasie molto spesso causano anche delle modificazioni del tessuto osseo anche qui il discorso è piuttosto complesso il concetto operativo che vi vorrei passare è che tutti quei pazienti che ricevono una terapia che modifica l'assetto ormonale sia perché siano farmaci con target pensiamo per esempio agli inibitori dell'aromatasi ma anche farmaci pensiamo ai chemoterapici in conseguenza dei quali c'è una modificazione ormonale della donna quindi pensiamo alle menopause indotta dai chemoterapici ecco questo porta in sé porta con sé una modificazione del tessuto osseo con una riduzione della BMD piuttosto significativa e piuttosto rapida ma vi aggiungo un pezzo un incremento di incidenza di fratture che precede le modificazioni della BMD questo è un altro concetto che poi tornerà noi abbiamo una MOC come gold standard ma in realtà la MOC non ci dice tutto ci sono tutta una serie di quadri dove il rischio di frattura è anticipato rispetto alle modificazioni alla DEXA quindi la soglia di intervento è differente rispetto a quella che ci potrebbe dare la valutazione sullo strumentale questo è uno studio non molto recente dove però vediamo come l'incidenza non solo di modificazioni di massa ossea ma anche l'incidenza di fratture è aumentata nei pazienti in terapia con i inibitori dell'aromatasi anche in presenza di MOC normale e questo è un aspetto non irrilevante lo stesso modello terapeutico da un punto di vista biologico è un po' diverso lo vediamo anche nell'osteoporosi indotta da steroidi anche qui noi abbiamo una modificazione in cui i pazienti che o per secrezione endogena o per assunzione esogena cronica di dose medio-alte di steroidi ecco in queste persone vediamo modificazioni sia sul versante riassorbitivo che sul versante di neopposizione del tessuto osseo con una precocissima alterazione sia della struttura che anche della MOC va bene ma anche con un incremento precoce anche qui del rischio di frattura quindi la considerazione terapeutica su queste persone deve prescindere dalla valutazione densitometrica questo è il messaggio chiave che vorrei passasse cioè la terapia steroidea è una terapia associata al rischio di frattura quindi parlare di MOC parlare di DEXA e parlare dei rischi di frattura sono due discorsi ovviamente collegati ma differenti cioè una MOC non ci dice da sola quale sarà il rischio di frattura del nostro paziente quindi la valutazione del singolo paziente va fatta nell'ottica per l'appunto di stimare questo rischio in maniera corretta perché quella che è la cosiddetta soglia diagnostica e per quello la MOC va benissimo ti scor meno 2,5 diagnosi osteoporosi su questo pochi dubbi ma questo cosa vuol dire vuol dire che questo paziente va trattato sì o no va trattato come e questo è il concetto di soglia terapeutica ho una storia clinica del paziente e questo mi dice se devo o non devo intervenire da un punto di vista farmacologico i fattori di rischio ne abbiamo già parlato e ci sono abbiamo visto delle patologie che sono correlate al rischio di osteoporosi per deformazione professionale tutto ciò che riguarda la disabilità le alterazioni del movimento e del carico e anche poi del controllo del sistema nervoso sul muscolo e quindi sull'osso ovviamente attivano l'attenzione comunque come vedete l'elenco è piuttosto ampio e piuttosto variegato perché come il professor Venizio ci ha fatto vedere i meccanismi sono coinvolti in tutta una serie di patologie che impattano sul rischio di fratture quindi diagnosi vuol dire BMD vuol dire indagini radiologiche vuol dire test di laboratorio ci aiutano soprattutto nella distinzione tra osteoporosi primitive e secondarie ma alla fine la storia clinica del paziente è quello che dobbiamo analizzare per decidere se trattarlo o meno questo l'abbiamo già detto la BMD lo sappiamo fino a meno 2,5 osteopenia sotto il meno 2,5 osteoporosi piccola postilla il paziente con meno 2,5 e la frattura è un paziente con osteoporosi severa e quindi con delle necessità terapeutiche che sono sicuramente più elevate postilla metodologica la MOC è un esame che ha delle regole di ingaggio come tutti gli esami quindi va applicato correttamente e va interpretato correttamente nella valutazione clinica vale anche la valutazione dell'esame perché da sola non ci dice tutto è ben detto soglia terapeutica diverso da soglia diagnostica perché dove si fa la MOC di solito dove ci si rompe di più quindi vertebre lombari solitamente oppure la parte prossimale del femore questo però porta dietro alcuni problemi perché da un punto di vista biologico e tessutale i pazienti cambiano nel tempo una paziente più anziana ha buone probabilità di avere modificazioni eratrosiche della colonna che quindi rendono quel meno 2,5 che è un dato comparativo con maggiore probabilità di essere non corretto quindi dopo i 65 anni solitamente si predilige la MOC a livello femorale piuttosto che a livello lombare peraltro non è raro vedere MOC fatte su vertebre fatturate non ha senso una vertebra fatturata chiaramente ha una densità ossea che non è quella fisiologica quindi non prendiamo per buono l'esame necessariamente interpretiamolo in un'ottica più di sistema la radiologia è importante anche perché abbiamo detto che l'osteoporosi severa è MOC meno 2,5 più frattura le fratture bisogna cercarle quindi andare a guardare se nella colonna di un paziente oltre alle note di spondilo artrosi bla bla ci sono anche delle modificazioni della forma della vertebra questa è la classificazione di Genant che è quella più diffusa ma esistono anche dei software che calcolano la riduzione percentuale dell'altezza è importante perché molto spesso sembra un paradosso ma sono fratture asintomatiche e per questo misconosciute test di laboratorio lo abbiamo accennato ci servono soprattutto per escludere forme secondarie e per correggere per esempio delle forme di ipovitaminosi D che rendono anche meno efficace la terapia diciamo che il concetto di base è che nel complesso noi quello che dobbiamo cercare di valutare mettendo insieme tutti questi elementi è il rischio di frattura del paziente ci sono degli algoritmi che ci supportano in questo il DEFRA è quello attualmente più in auge non è l'unico in qualche modo cercano di dare una stima considerando gli aspetti morfologici strumentali e clinici quello che è il rischio di frattura del paziente da qui a dieci anni non è banale prendere una decisione corretta in questo senso perché quando parliamo di osteoporosi e di fratture parliamo di soprattutto di quella popolazione di cui stiamo discutendo in queste due giorni perché i pazienti osteoporotici molto spesso sono pazienti anziani gli anziani aumentano l'osteoporosi inevitabilmente aumenterà i numeri sono imponenti se i numeri sono imponenti anche le conseguenze da un punto di vista anche sociale saranno importanti la frattura di femore è un evento drammatico ha una mortalità molto alta nei primi tre mesi ma che si mantiene comunque alta anche nel medio-lungo periodo quindi un intervento corretto è un intervento salvavita per i pazienti fate conto che la metà delle donne con frattura hanno una riduzione da loro autonomia e il 20% finisce istituzionalizzata in un RSA quindi capite che non stiamo parlando di aspetti banali e anche dal punto di vista economico l'impatto è importante vi faccio notare come in Italia si spende molto per la cura dei pazienti con le fratture ma si spende pochissimo per la prevenzione secondaria cioè molto spesso i pazienti fratturati non ricevono neanche dopo che si sono rotti il femore una terapia per l'osteoporosi e questo se ci pensiamo è piuttosto curioso vabbè ovviamente insomma la parte grossa la fanno le fratture di femore anche per le conseguenze funzionali ma insomma anche il resto non è non è da dimenticare sono quadriclinici complessi lo abbiamo detto e l'intervento lo è allo stesso modo quindi non basta solo mettere il chiodo o la vite o la protesi c'è anche tutto un percorso da costruire intorno al paziente fratturato e l'aspetto riabilitativo non è questa la sede per parlarne ma certamente riveste un ruolo molto molto importante perché nella classificazione dell'ICF ci sono tutta una serie di aspetti che sono associati alle fratture di osteoporosi che come vedete riguardano sì la componente osteometabolica ma non solo perché ci sono dentro anche la funzione motoria l'equilibrio il cammino e la qualità di vita quindi è un approccio terapeutico che va a mettere insieme tutta una serie di elementi detto ciò in pratica cosa andiamo a fare? I capisaldi sono due gli interventi farmacologici e poi ne parleremo ma permettetemi di insistere un attimo su quegli interventi non farmacologici che hanno due vantaggi il primo non rientrano nella nota 79 di cui poi ahimè parleremo ma soprattutto riguardano sia un discorso di terapia ma anche un discorso di prevenzione perché il modello culturale che dobbiamo cercare di introdurre sta proprio lì la multidisciplinarietà non vuol dire solo trovare il farmaco più efficace ma vuol dire trovare l'approccio più efficace alla terapia quindi da un lato dobbiamo cercare di prevenire le fratture quella che si chiama prevenzione primaria dall'altra dobbiamo prevenire le rifratture nei pazienti che già una volta si sono rotti è quella che si chiama prevenzione secondaria quindi mettere insieme questi aspetti è essenziale anche perché i fattori di rischio spesso sono gli stessi ma sono specifici a seconda delle situazioni cosa mangia il paziente l'apporto di calcio assume non assume la vitamina D anche qui vexata questio non è sempre facile darla non è sempre facile farla assumere né con gli alimenti né con i farmaci e poi il concetto anche qui permettetemi il conflitto di interessi il discorso dell'esercizio e dell'attività fisica il meccanismo degli osteociti riveste importanza nell'osso ma c'è anche poi tutta la componente sul muscolo quindi intervenire con un approccio chiaramente specifico per il quadro generale del paziente è importante in una donna in postmenopausa possiamo impostare tutta una serie di attività chiamiamole attività fisica adattata chiamiamola come volete ma ci sono come dire degli aspetti di prevenzione che sono importanti con ovviamente delle regole di ingaggio importanti perché l'esercizio fare un po' di ginnastica non è esercizio l'esercizio deve essere specifico sugli obiettivi dire carico meccanico non vuol dire niente noi dobbiamo sollecitare gli osteociti con i meccanismi che avete visto nella maniera corretta perché altrimenti anche l'attività può non essere efficace nella prevenzione e questo è vero a maggior ragione quando parliamo di pazienti disabili dove ci sono dei meccanismi di controllo motorio di reclutamento e di interazione osso-muscolo che non sono quelli fisiologici e quindi anche l'impostazione del programma va fatto sulla base delle abilità residue delle competenze e dei meccanismi ovviamente biologici la prevenzione cadute è un po' diciamo nella stessa area non solo ma è complementare avere una buona competenza del controllo di movimento riduce il rischio di fratture ovviamente ci sono poi esercizi specifici e ci sono poi ovviamente anche degli interventi di tipo ambientale grande classico togliete i tappeti eccetera eccetera però come dire anche qui la sistematizzazione di questi interventi al momento non c'è quindi molto spesso come dire la pillolina è quello che noi diamo al nostro paziente e tanto basta parlando di farmaci cercherò di annoiarvi il meno possibile perché la questione è piuttosto complicata gioca soprattutto sul discorso soglia terapeutica soglia diagnostica cioè è lì soprattutto che noi dobbiamo valutare questi due elementi per decidere quando inserire o non inserire il farmaco tenendo presente nel bilancio non rischio beneficio che il nostro obiettivo è quello di ridurre l'incidenza di fratture e ovviamente non possiamo dare il farmaco dimenticandoci gli aspetti preventivi perché altrimenti come dire il nostro intervento certamente sarà sarà meno efficace ovviamente insomma la storia clinica quindi con i fattori di rischio che abbiamo visto prima farmaci moche e quant'altro ovviamente qui dobbiamo ripescarli perché sono quei determinanti che ci fanno decidere su quello che dobbiamo fare anche qui i modelli biologici che abbiamo visto prima sono quelli alla base poi della scelta anche del farmaco perché il modeling e il remodeling dell'osso nel giovane e nell'anziano sono differenti e anche i meccanismi di azione dei farmaci vanno ad insistere su diverse linee e diversi meccanismi fisiopatologici quindi la scelta del farmaco è legata anche al quadro clinico del paziente che abbiamo di fronte qui vedete riassunto quella che è la storia di un osso che è un tessuto dinamico l'osso viene riassorbito dagli osteoclasti e viene rinnovato con un meccanismo che cambia ovviamente con l'età dagli osteoblasti e il target delle classi di farmaci come dire sono distribuiti lungo tutta questa catena fisiopatologica perché se alcuni farmaci cosiddetti antirassorbitivi vanno ad agire sulla componente osteoclastica alcuni in fase precoce pensiamo a denosumab andando a bloccare la maturazione dell'osteoclasta altri come i più classici bifosfonati vanno in realtà a indurre la poptosi degli osteoclasti che si sono già differenziati i farmaci anabolici vanno invece ad agire prevalentemente sulla componente appunto anabolica quindi sulla componente osteoblastica di neoapposizione gli ultimi farmaci i più recenti il romosozumab l'anticorpo antiesclerostina già evocato nella relazione precedente è uno di questi che va ad agire sia sulla componente anabolica che sulla componente anticatabolica farmaci anticatabolici ecco molto rapidamente essenzialmente in questa fase sono i bifosfonati e il denosumab che sono quelli che hanno maggiori evidenze a supporto la terapia urumale sostitutiva ovviamente ha un effetto anche sull'osteoporosi ma non è in senso stretto una terapia per l'osteoporosi ovviamente rientra in un concetto di terapia differente come dicevamo bifosfonati ed enosumab agiscono sulla componente osteoclastica in maniera diversa uno blocca la differenziazione gli altri inducono l'apoptosi i bifosfonati sono i farmaci storici sono i capisagli dagli storici all'endronato e il risedronato che hanno formulazioni per via orale settimanale o mensile variamente combinate hanno una buona evidenza l'acido zooledronico usato anche in ambito oncologico ma con dosaggi e posologie differenti ha un'ottima efficacia anche nel trattamento dell'osteoporosi con alcuni vantaggi di maneggevolezza e di aderenza anche su questo punto torneremo tutti questi farmaci sono stati registrati anche per la GIOP l'osteoporosi da steroidi e per l'osteoporosi maschile questo non è comune a tutti i farmaci l'ibandronato è un altro bifosfonato adesso un po' meno in uso anche questo è una formulazione sia per os che per via endovenosa poi ci ritorniamo probabilmente del grado di efficacia un pochino più ridotti ci sono altri bifosfonati che qui vi ricordo brevemente che funzionano ottimamente per altre patologie pensiamo per esempio a neridronato per il trattamento dell'ostogenesi imperfetta o della godistrofia ma che non sono approvati per il trattamento dell'osteoporosi quindi la scelta del farmaco va fatta anche sulla base della scheda tecnica e delle evidenze disponibili i bifosfonati non sono tutti uguali eventi avversi anche qui molto rapidamente anche perché molto spesso sono visti dal paziente e in generale dalla classe medica come dei limiti all'utilizzo dei farmaci la reazione di fase acuta si vede praticamente solo in quelli per via infusiva cos'è una full-like syndrome che dura 2-3 giorni dopo l'infusione del farmaco lo zoledronato soprattutto la via probabilmente è legata all'attivazione dei linfociti T gamma delta perché nella via metabolica dove agiscono i bifosfonati c'è un'attivazione anche di questi linfociti che innescano questa reazione infiammatoria che però se volete usare questo dato per tranquillizzare i pazienti pare che abbiano una correlazione anche con un incremento di efficacia nella riduzione del rischio di frattura quindi sembra dati piuttosto recenti sembra che i pazienti che hanno reazione di fase acuta sono anche quelli che rispondono meglio al trattamento potete venderla come plus in caso di rimostranze da parte del paziente dopo l'infusione altro elemento importante sono le cosiddette fratture atipiche anche queste piuttosto temute ma in realtà osservate in pochi pazienti sono fratture biafisarie del femore spesso bilaterali incidenza molto 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 bassa in realtà anche io ne ho viste non tantissime nella vita molto spesso con persone che hanno una terapia veramente lunga con bifosfonati quindi oltre 10 anni diciamo che da un punto di vista del bilancio rischio beneficio siamo nettamente nella frazione del beneficio stesso discorso anzi a maggior ragione sulla famigerata ONJ la temutissima osteonecrosi della mandibola terrore soprattutto negli anni passati dei dentisti e degli odontoiatri ma che in realtà in ambito osteometabolico è veramente un problema marginale anche dal punto di vista epidemiologico quindi diciamo che non c'è nessun motivo di non trattare un paziente per il rischio di questa complicanza peraltro non lo dico io lo dicono i dentisti perché esistono delle guida pubblicate dalla loro associazione scientifica che identifica stratifica per rischio i pazienti in terapia per l'osteoporosi e giusto come take on message non dà nemmeno un'indicazione nel caso di di denosumab alla sospensione della terapia per gli interventi quindi lo dicono loro non lo dico io non è un problema alla fine così così rilevante è sufficiente come dire cercare di dare un timing dell'intervento odontoiatrico senza per questo come dire rischiare di aumentare il rischio di frattura quanto dura la terapia con i bifosfonati beh dura anni è una terapia cronica ha senso sospenderla sì a seconda anche però del rischio di frattura del paziente l'intervallo terapeutico di 1-2 anni si può considerare ma diciamo che la durata comunque può arrivare fino a 10 anni per i pazienti ad alto rischio o fino a 3 anni o anche oltre 3 anni con zoledronato nel caso di pazienti a più elevato rischio di frattura denosumab lo abbiamo già citato è un anticorpo monoclonale antirengligando che inibisce la differenzazione dall'osteoclasta quindi la linea di intervento è la stessa dai bifosfonati la differenza è che la somministrazione in questo caso è sottocotanea ogni 6 mesi quindi da un punto di vista del paziente è piuttosto semplice da assumere molto efficace anche nei pazienti oncologici e l'unica accortezza è che è una terapia con evidenze fino a 10 anni con un'ottima efficacia ma che quando viene interrotta come dire si interrompe piuttosto bruscamente mentre i bifosfonati hanno un effetto coda piuttosto lungo il denosumab dopo i 6 mesi dall'ultima somministrazione di fatto interrompe il suo effetto quindi si ha una ripresa del normale metabolismo osseo quindi l'idea insomma che la terapia vada proseguita anche dopo la sospensione ma ne parliamo dopo i SERMS si erano farmaci analoghi degli estrogeni che ultimamente si usano un pochino bene l'altro capitolo importante è quello dei farmaci anabolici essenzialmente due teriparatide in commercio ormai da molti anni e il romosozumab il teriparatide stimola l'aspetto di apposizione ossea e questo è vero soprattutto in una finestra terapeutica di 12-24 mesi 12 mesi più evidente altri 12 ancora buona quindi è una terapia che si fa per due anni quindi paziente poi vedremo chi sono le persone che ricevono teriparatide ricevono questa somministrazione quotidiana per due anni e il trattamento tendenzialmente non viene ripetuto qual è il preso teriparatide che modifica la qualità dell'osso in maniera significativa perché appunto lavora anche sul rimodellamento con la posizione è importante che i pazienti lo assumano per tutta la durata del trattamento ma soprattutto è importante che lo assumano l'aderenza al trattamento dei farmaci per l'osteoporosi è una delle questioni più dibattute metà dei pazienti a cui prescrivete qualcosa non prendono niente e quindi capite che anche tutte le stime di efficacia perdono di significato se il paziente non prende il farmaco anche in un farmaco come la teriparatide dove in realtà c'è anche tutto un processo di addestramento iniziale della persona vedete che i tassi di aderenza tendono a decrescere nel tempo e questo chiaramente è un problema ultimo spunto già appunto citato è il rumosozumab farmaco che appena inserito in nota che dovrebbe tra poco essere anche disponibile qui la via d'azione è duplice perché è un anticorpo antisclerostina che da una parte va a incrementare la neoformazione dell'osso e dall'altra va a inibire quello che è il riassorbimento anche qui ha dei criteri piuttosto stretti di applicazione ed è un farmaco che ha mostrato la sua efficacia nel primo anno di somministrazione quindi è una terapia in questo caso di durata annuale questa è una tabella riassuntiva che vi dice che sono farmaci tutti quelli che abbiamo visto che funzionano nella prevenzione di fratture oltre che nel discorso di modificazione della BMD hanno degli effetti avversi ma questo insomma è comune voglio dire a tutti i farmaci l'ultimo concetto che vorrei passarvi è quello della continuità terapeutica cioè l'osteoporosi è una malattia cronica quindi la decisione di proseguire o di sospendere la somministrazione dei farmaci è legata al rischio della singola persona o ovviamente alle indicazioni del farmaco perché se parliamo di teriparatide oltre due anni la teriparatide non si somministra più e quindi qualcos'altro deve essere fatto se parleremo di romosozumab stessa cosa dopo un anno bisogna fare qualcos'altro quindi il concetto di continuità di cura e di terapia sequenziale cioè di combinazione di farmaci diversi sono tra le sfide principali che ci troveremo ad affrontare nei prossimi anni perché da una parte dobbiamo vedere che il paziente continui a prendere il farmaco dall'altra dobbiamo capire se quello che stiamo dando funziona perché esistono anche quei pazienti che nonostante la terapia e nonostante che la prendano si fratturano quindi quando noi diciamo che la terapia che stiamo dando non funziona anche qui la discussione è ampia questa revisione ci parla di due o più fratture durante la terapia e questo ci può come dire dare degli spunti su quello che stiamo facendo cioè va bene o no dobbiamo proseguire con la terapia in atto o dobbiamo cambiarla e anche qui la questione non è banale perché anche la sequenza e la combinazione dei farmaci non sono indifferenti l'esempio in questo senso più calzante è quello della combinazione fra denosumab e teriparatide due o tre i farmaci più potenti a disposizione che funzionano benissimo quando diamo il denosumab dopo il teriparatide ma che vanno in maniera molto poco efficace se diamo il teriparatide dopo il denosumab in pazienti che si frattura in terapia con denosumab la teriparatide non ha mostrato efficace il trattamento quindi anche la scelta delle varie opzioni è una scelta che va fatto su una serie di criteri ultimissimo aspetto la prevenzione secondaria anche questo l'abbiamo già accennato è un paradosso i pazienti già fratturati non presi in carico che si rifratturano anche qui i numeri sono impietosi metà dei pazienti non prendono nessun tipo di farmaco e anche in questo senso modelli organizzativi potrebbero essere auspicabili uno di questi è il fracture liaison service ma non solo questo breve report di un progetto pilota che abbiamo condotto negli ultimi anni e che come dire dà qualche suggerimento per una gestione precoce di presa in carico dei pazienti in fase immediatamente post frattura non vi leggo la nota 79 perché mi risparmio l'aspetto burocratico anche perché è facilmente reperibile sul sito dell'AIFA vi faccio solo notare come le caselline siano piuttosto strette e questo come dire in parte estona con tutto quello che abbiamo visto nella relazione precedente su quelle che sono tutte una serie di implicazioni e di target terapeutici che nei prossimi anni sicuramente dovremo andare ad affrontare e vi ringrazio per l'attenzione bene grazie grazie professor Baricic per la bella relazione abbiamo accumulato un pochettino di ritardo ma insomma le due presentazioni sono state molto belle per cui insieme a professor Cisa abbiamo deciso di provare a dedicare qualche minuto ad una breve discussione se ci sono domande dalla sala dopodiché fatta questa breve discussione in effetti con molto piacere lasceremo il podio per sentire le prossime due relazioni se qualcuno ha piacere di chiedere qualcosa relativamente alla bella presentazione del professor Invernizzi patogenesi e meccanismi molecolari dell'osteoporosi questo può essere un momento in alternativa il professor Baricic che ci ha parlato di terapia e gestione clinica e tante altre cose per cui lo ringraziamo in effetti ha fornito molti spunti di riflessione prego professor Cisari Ci sono domande volevo farne una velocissima sul ruolo della vitamina D prima faccio una premessa che da clinico mi urge la vitamina D non è la cura dell'osteoporosi questo lo dico forte chiaro anche perché è in valso molte volte dire che la vitamina D è il primo step della cura dell'osteoporosi così non è però chiedevo al professore invece qual è il ruolo della vitamina D in tutto questo è per requisito perché in realtà adesso senza dilungarci in discussioni piuttosto ampie in realtà ci sono anche parecchi lavori che dimostrano come anche l'efficacia dei farmaci che abbiamo visto in realtà è tale solo in presenza di livelli normali di vitamina D ora ormai abbiamo forme le più disparate di vitamina D di somministrazione certamente è come dire uno dei caposagli della la valutazione dell'ipovitaminosi D è uno dei primi step di valutazione e se è un problema all'aderenza ai farmaci antiresorbitivi a maggior ragione lo è quella insomma dell'assunzione della vitamina D che poi non riguarda solo in realtà i pazienti osteoporotici in cui poi bisognerò aprire un capitolo ancora più più ampio però sicuramente insomma è un grosso problema grazie anche per la sintesi sulla vitamina D avremmo potuto fare un altro congresso intero ma in effetti non è certamente il caso se non ci sono altre domande no una domanda c'è la cosiddetta domanda della staffa prego buongiorno a tutti mi chiamo Giulio La Terza sono fisioterapista volevo chiedere se l'esercizio fisico ha in qualche appunto fase dell'osteoporosi controindicazioni proprio che non deve essere fatto per maggior rischio di fratture la controindicazione all'esercizio per il rischio di fratture no è ovvio che quello che dicevo prima cioè il concetto del po' di esercizio è un concetto piuttosto scivoloso perché ovviamente c'è la stesura insomma del plan di trattamento va fatta in funzione dell'esigenza del paziente ci sarà il paziente a maggior rischio di caduta estremizzò il concetto dove ovviamente alcuni esercizi non andranno applicati ma di per sé l'osteoporosi è tutt'altro che una controindicazione all'attività allora con molto piacere io lascio il podio al professor Marzullo Paolo Marzullo professor associato di endocrinologia di questa università che modererà l'ultima parte di questa sessione grazie è un piacere ovviamente poter moderare due persone che sul campo si occupano di un aspetto leggermente diverso anzi oserei dire profondamente diverso rispetto all'aspetto clinico che come avete visto è stato discusso ora il progetto aging io faccio parte del dipartimento di medicina transazionale quindi mi sono trovato coinvolto in questo progetto non avendo in realtà grosse diciamo esperienze precedenti ma avendo sempre lavorato in realtà sul paziente aged quindi sul paziente invecchiato in questo momento deve soprattutto guardare alla modalità per diciamo prevenire precocemente quello che è l'invecchiamento osseo e noi abbiamo e lo avete sentito stamattina in realtà anche diciamo all'apertura abbiamo la necessità di capire come invecchiare bene invecchiare diciamo un evento naturale invecchiare bene non lo è e quindi mi inviterei e inviterò le relatrici a parlarci di quella che è l'esperienza Upo in questo ambito la prima persona che quindi chiamerò a parlare al podio è la dottoressa Diana Campani la dottoressa Diana Campani è una dottoranda di ricerca del corso Food Health and Longevity di cui avete sentito parlare questa mattina è una persona che si è sempre occupata nell'arco della sua carriera di modelli organizzativi preventivi in comunità è una persona che ci parlerà di un progetto che è un progetto di prevenzione cadute nel soggetto anziano con un focus sull'ambito domiciliare attraverso diciamo l'implementazione di quelle che sono le best practices e tanto altro ancora prego dottoressa grazie buongiorno a tutti quello che grazie per questa introduzione quello che vado a presentarvi di oggi sono tre studi che fanno parte chiaramente di un progetto più ampio e riguardano appunto la prevenzione delle cadute con un focus particolare appunto negli anziani che abitano a domicilio in particolare appunto l'obiettivo di questo progetto appunto più ampio in cui rientrano è quello appunto di implementare buone pratiche per la prevenzione delle cadute negli anziani andando a sviluppare appunto o portando nella pratica quelle che sono appunto le evidenze anche in ambito assistenziale nonché appunto studiare anche quelli che possono essere nuovi modelli organizzativi innovativi per favorire questo tipo di implementazione e questo tipo di pratiche il primo studio che vi vado a presentare è uno studio è un protocollo di studio attualmente in corso lo studio TED che presuppone la sperimentazione diciamo di questo dispositivo indossabile che come vedete ha la forma di un orologio simile un po' all'Apple Watch che potrebbe essere utilizzato appunto per lo studio dei pattern di andatura associati a caduta nella popolazione anziana in particolare noi ci stiamo focalizzando sul paziente parkinsoniano e sul paziente sano quindi sui loro caregiver quindi coetanee che vivono in stesse più o meno condizioni ambientali che però appunto possono comunque essere esposti a rischio di caduta piuttosto che no lo studio di questo lo scopo di questo studio chiaramente che è un pilota è quello appunto di andare a verificare un po' anche la fattività dell'utilizzo appunto di questo device nei pazienti con morbo di parkinson nello specifico ci siamo posti anche degli studi degli obiettivi secondari che sono quelli di appunto valutare sicuramente quanto la popolazione può essere aderente a questo tipo di device quindi quanto potrebbe essere piacevole indossarlo facile utilizzarlo vogliamo anche verificare la corretta compilazione di un diario che viene consegnato ai pazienti durante la fase di arruolamento per andare poi a verificare se quello che il device registra è effettivamente rispondente alla realtà quindi in termini di cadute di quasi cadute che chiaramente è il diciamo l'outcome principe di questa nostra valutazione abbiamo preso in considerazione anche le quasi cadute perché dalla letteratura abbiamo evinto che le quasi cadute sono sicuramente un segno premonitore del fatto che nel paziente stia succedendo qualcosa stia variando l'andatura ma anche che possa essere un segno premonitore diciamo di una prognosi ad evoluzione un pochino più negativa rispetto al periodo precedente con questo device andremo appunto a registrare alcuni parametri che riguardano appunto l'andatura ma li vedremo in un'altra slide nello specifico e andremo a confrontare appunto l'andatura registrata con il rischio di caduta appunto dei soggetti parkinsoniani in confronto anche ai soggetti non affetti da malattie di Parkinson e ultimo appunto aspetto sarà anche quello di raccogliere del materiale che poi verrà archiviato nella UPO Biobank sulla immagine di destra abbiamo un po' questo quadro riassuntivo di quelli che sono i dati che andiamo a raccogliere già dalla fase di arruolamento e nel tempo nel follow up di 12 mesi che è previsto per questo tipo di studio in particolare ci sarà un approfondimento anche sulle abitudini di vita quotidiana perché questo studio appunto viene condotto al domicilio del paziente e non ultimo appunto tutta una parte di assessment clinico in collaborazione con i medici dell'unità di ricerca del movimento dell'ospedale maggiore della carità per appunto stimare innanzitutto quale sia il quadro clinico da un punto di vista neurologico del paziente quindi se questo paziente rientra nei nostri criteri di inclusione ed esclusione in quanto si deve trovare in una fase intermedia di malattia nonché appunto un assessment più generale rispetto al movimento un piccolo insight rispetto al device che andiamo ad utilizzare sulla destra vediamo quelle che sono le caratteristiche del passo dell'andatura che andremo a rilevare quindi la cadenza del passo l'ampiezza del passo l'oscillazione le variazioni nell'andatura quindi anche la velocità e un ultimo appunto la festinazione che è un elemento molto importante dell'andatura nei soggetti parkinsoniani e appunto gli episodi di caduta o quasi caduta che l'orologio essendo composto da un accelerometro o un giroscopio sarà in grado appunto di rilevare o quantomeno ci attendiamo che possa essere in grado di rilevare come anticipavo appunto i pazienti si troveranno si troveranno in una fase intermedia di malattia quindi non con una diagnosi precoce ma appunto con una conclamata diagnosi è una fase ritenuta intermedia di malattia in quanto più esposti a caduta e meno esposti magari ad altre alterazioni che potrebbero creare dei confondenti in altri stadi di malattia quindi questa è stata una scelta ricavata appunto anche qui da un lavoro di revisione di letteratura i pazienti i pazienti saranno in totale 26 più 26 caregiver tra i criteri di esclusione ovviamente abbiamo i pazienti istituzionalizzati o ricoverati in primis proprio perché questo studio ha un significato molto importante in quanto essendo svolto al domicilio del paziente ci permette di ottenere delle informazioni proprio anche di vita quotidiana di relazionare queste informazioni con le attività di vita quotidiana per fare poi una valutazione anche da un punto di vista infermieristico più ampio di quelle che sono le variazioni rispetto all'utente un po' i suoi stili di vita e quindi capire poi successivamente quali interventi potrebbero essere più efficaci all'interno di questo ambito diciamo di prevenzione attualmente questo studio pilota è in fase di arruolamento sono stati arruolati incomplessivamente al momento 19 pazienti di cui 17 utenti affetti di morbo di Parkinson e due utenti invece due caregiver quindi non malati gli altri due studi invece che vado a presentarvi in questo momento molto brevemente sono due studi diciamo che intendevano individuare quali interventi fossero efficaci sostenibili e trasferibili per la prevenzione delle cadute a domicilio nella popolazione anziana faccio una breve premessa metodologica in quanto entrambi gli studi hanno lo stesso apparato metodologico quindi identifichiamo ora appunto la metodologia che è stata utilizzata per non ripeterla in entrambi i casi quindi l'obiettivo appunto era quello di sviluppare questi due diciamo manuali li abbiamo proprio chiamati manuali perché di fatto sono indicazioni molto operative molto pratiche che a loro interno racchiudono interventi efficaci sostenibili trasferibili di modifica dell'abitazione domestica e di appunto implementazione di interventi efficaci trasferibili e sostenibili di esercizio fisico per la prevenzione appunto delle cadute nella popolazione anziana a domicilio il metodo che abbiamo utilizzato è il metodo IPEST che è un metodo che appunto è nato qui all'interno dell'Università del Piemonte Orientale con il professor Faggiano e prevede fondamentalmente due momenti principali un primo momento di revisione della letteratura revisione sistematica della letteratura allo scopo di identificare attività azioni interventi programmi e strategie efficaci basate sull'evidenza sia per la prevenzione della caduta appunto dell'anziano domicilio con le modifiche dell'ambiente domestico sia con l'integrazione appunto dell'esercizio fisico in questo caso le revisioni di letteratura hanno originato appunto una sintesi prima di tutto una selezione di tipo qualitativo delle evidenze che sono state trovate quindi non tutte poi sono state incluse nei manuali finali e le evidenze comunque trovate sono state sintetizzate appunto in due manuali operativi che sono state poi sottoposte ad un panel di esperti per una validazione per una propria appunto opinione e un'integrazione che riguardasse soprattutto alcuni aspetti in particolare quindi la valutazione della sostenibilità in termini sociali ad esempio in termini anche economici e temporali e l'altro criterio è quello della trasferibilità ovvero che queste evidenze trovate questi programmi generassero poi un manuale che fosse applicabile trasferibile e sostenibile anche in altri contesti diversi da quelli diciamo per cui magari originariamente questo modello è stato studiato quindi il primo di questi due lavori come accennato riguarda appunto l'esercizio fisico dalla revisione della letteratura sono state incluse due linee guida una revisione sistematica con meta-analisi e un RCT proprio perché appunto le evidenze trovate sono state filtrate in maniera con un sistema molto rigido di valutazione della qualità e quindi non tutte appunto sono state incluse nel manuale finale dopodiché il manuale appunto ha incluso queste attività metodi risorse infrastrutturali capitale umano stakeholders eccetera è un manuale ovviamente molto ampio molto corposo che presuppone appunto anche una sintesi di frequenza e durata dell'intervento detto esercizio fisico o dei programmi di esercizio fisico dopodiché come accennavo queste evidenze e questa sintesi ulteriore fatta è stata sottoposta appunto a questo panel di esperti che ne ha un po' validato l'applicabilità la trasferibilità e la sostenibilità in particolare i risultati che abbiamo trovato ci hanno confermato che le attività fisiche che richiedono movimenti 3D spaziali quindi danza tai chi o altri tipi di attività fisica sono efficaci effettivamente c'è stato un insight anche a parte rispetto alla durata e al tempo di somministrazione di questo tipo di interventi nonché il potenziamento e la resistenza muscolare attraverso l'applicazione appunto di pesi o circuiti e l'applicabilità appunto di interventi misti tra la valutazione costo-efficacia è stato stabilito che partendo appunto dalla base di letteratura dalla base di evidenza che la partecipazione costante e continua è un elemento importante fondamentale per la buona riuscita e per garantire l'efficacia e il successo dell'intervento e nei casi a basso rischio questo intervento può essere anche condotto in gruppo eventualmente con il coinvolgimento di volontari formati rispetto all'esercizio fisico quindi un elemento ulteriore che può garantire una maggiore sostenibilità nel tempo di questo intervento ultimo aspetto la trasferibilità dell'intervento sicuramente coinvolgendo tutto il sistema di cure primarie in particolare la figura degli infermieri di famiglia e comunità come altri professionisti che in questo momento anche grazie al PNRR stanno entrando in maniera importante sul territorio ecco questo può essere un luogo sicuramente dove appunto in primis può essere promossa appunto l'attività fisica l'esercizio fisico per non solo per la prevenzione delle cadute ma anche per tutta la molteplicità di benefici che già la letteratura da ampio tempo dice che l'esercizio fisico abbia sulla salute umana quindi il manuale appunto è stato sviluppato è stato validato e appunto può essere realmente implementato nei contesti locali in particolare questo manuale come il successivo sono stati anche ricontestualizzati a febbraio del 2002 in ambito trasfrontaliero per un altro progetto che vede una collaborazione trasfrontaliera fra il versante italiano e il versante svizzero nel secondo lavoro appunto quello che riguarda invece le modifiche dell'ambiente domestico le linee guida che sono state incluse nel lavoro finale sono state soltanto due e come prima detto la bozza è stata appunto discussa con degli esperti che hanno di nuovo appunto valutato quelli che potevano essere elementi di trasferibilità sostenibilità oltre che appunto di efficacia dell'intervento e questi sono un po' i risultati rispetto quindi alle modifiche dell'ambiente domestico è stato ritenuto molto importante creare una consapevolezza nella popolazione e nei caregiver rispetto ai bisogni emergenti della popolazione anziana quindi non solo andando nello specifico a determinare degli interventi di modifica dell'ambiente domestico ma creando prima di tutto una consapevolezza questo perché sia dalla letteratura ma anche dalla discussione con gli esperti da questo gruppo multidisciplinare si è evinto come l'intervento di modifica dell'ambiente domestico di per sé come può essere appunto la rimozione di un tappeto talvolta non trova la complianza dell'utente della famiglia della comunità proprio perché non c'è una necessaria consapevolezza una forte consapevolezza di quelli che possono essere i rischi legati ad alcuni elementi di tipo ambientale in particolare è necessario poi implementare una vera risposta di tipo territoriale prima che l'evento acuto l'evento caduta o quasi caduta si possano verificare quindi creare un sistema che possa essere proattivo rispetto all'utente che quindi eviti in qualche modo la caduta e la quasi caduta appunto con delle azioni di presa in carico un po' più proattive nel momento in cui si presentano appunto sia delle problematiche ma anche proprio nello stile di vita quotidiano in questo senso aiuta sicuramente anche l'elemento di creazione di una rete di servizi e di attività connesse che possono essere più o meno gestite appunto da enti da associazioni ma anche da volontari che possono essere di supporto nel diffondere in maniera più capillare strumenti ma anche appunto ulteriori consapevolezze ulteriori opportunità per questa tematica in questo caso poi l'ultimo elemento è importante di fondamentale importanza coinvolgere l'utente ovviamente nelle scelte che possono guidare quelle che sono delle suggestioni di modifica dell'ambiente domestico ma soprattutto coinvolgere appunto i caregiver talvolta si è visto come piccoli cambiamenti quindi non grandi interventi strutturali difficilmente sostenibili a livello economico possono avere invece risultati migliori se appunto sono magari piccoli interventi quindi non richiedono un grosso coinvolgimento sia dell'utente che della famiglia da un punto di vista anche economico anche questo manuale come dicevo è stato appunto ricontestualizzato recentemente e quindi appunto applicabile nella realtà clinica questo studio è stato citato su Lancet e L'Alty Longevity appunto recentemente nel 2022 e con questa slide di contatto con le citazioni che ho appena esposto vi ringrazio per l'attenzione ringraziamo la dottoressa Campani per essere stata nei tempi averci esposto così bene i temi mi preme ricordare che la dottoressa Campani nel suo percorso anche di dottorato è seguita direttamente da Ferisce come vedete anche degli studi che sono stati mostrati al professor Dal Molin ora pregherei di venire al podio la dottoressa Carmela Rinaldi la dottoressa Carmela Rinaldi è una diciamo delle fautrici più attente di tutti i percorsi che hanno coinvolto il gruppo aging il sito del gruppo aging la raccolta dei materiali quindi ha veramente contribuito in maniera molto importante a che tutto quello che è stato poi in realtà fatto dal gruppo aging anche oggi sia stato esposto e venga esposto in maniera completa mi preme ricordare che Carmela la dottoressa Rinaldi è coordinatrice di area di formazione e ricerca della direzione delle professioni sanitarie del nostro ospedale maggiore fa parte diciamo dei monitoraggi di studi e risk management sanitario è coordinatore del master di lifestyle medicine nonché presidente della società della sezione italiana della European Pathway Association e ci parlerà di upo so good prevention come identificare le raccomandazioni le best practices e tradurle in atti per una prevenzione grazie professor Marzurlo per l'introduzione sarò breve e vi parlerò di questo prodotto tangibile di uno dei progetti dell'aging project che è all'interno del progetto Preve Mitigage che fa parte del progetto del gruppo di sanità pubblica diretto in questo caso dal professor Massimiliano Panella e che si poneva come obiettivo quello di sviluppare e valutare gli interventi per mitigare e prevenire proprio le condizioni legate all'età uno dei work package di questo progetto prevedeva la creazione di queste upo so good upo so good sono dei manuali dei manuali che sono stati prodotti a vantaggio di tre tipi di stakeholders adesso vedremo e altro non sono che l'analisi l'identificazione l'analisi di raccomandazioni best practice che sono state poi sintetizzate sono raccomandazioni di prevenzione primaria su singola patologia e che sono state sono legate all'età adulta e anziana io vi porterò oggi la metodologia perché per quanto riguarda tutto ciò che è il percorso clinico di eziopatogenesi clinico per esempio dell'osteoporosi già i relatori precedenti ovviamente hanno riportato dati numerosi quindi il protocollo che è un protocollo strutturato e abbastanza corposo ha visto in primis la revisione della letteratura per identificare quelli che erano i fattori di rischio modificabili e non modificabili per la singola patologia e ha visto poi la ricerca sistematica di linee guida internazionali utilizzando 16 database e anche la ricerca ha visto anche la ricerca su POMED questo è stato fatto da due ricercatori in modo indipendente un terzo ricercatore è rientrato in caso di disaccordo poi queste linee guida sono state selezionate e valutate con la GRID 2 e sono state incluse solo quelle che avevano una GRID 2 superiore al 50% la categorizzazione è avvenuta successivamente in base sia al tipo di intervento sia ai fattori di rischio che agli stakeholders gli stakeholders in questo caso erano o i professionisti della salute o i cittadini o i decisori politici e quindi vedremo poi che il prodotto appunto è stato suddiviso in queste tre categorie la valutazione delle raccomandazioni è stata fatta poi attraverso il metodo DELFI modificato c'è stata una piccola modifica è stato creato un panel di esperti ogni panel di esperti prevedeva la presenza di clinici e di professionisti di sanità pubblica in un numero non inferiore a 10 attualmente il panel di esperti ha visto la presenza di almeno 12 o 16 partecipanti e i relatori precedenti fanno parte dei vari panel di esperti delle diverse upo so good è stato poi strutturato un documento finale che è un percorso di diagnosi e prevenzione appunto per gli operatori sanitari o per i cittadini o per gli stakeholders sul territorio quindi i decisori politici e sono state poi pubblicate in un'apposita parte del sito del sito aging e sono fruibili da tutti questo è nato un po' anche dalla necessità dalla richiesta da parte degli operatori sanitari circa la difficoltà di reperire in letteratura quelle che sono le linee guida molto spesso gli operatori sanitari non sanno dove reperire o come leggere nel modo corretto le linee guida come valutare la qualità di queste linee guida e quindi lo abbiamo fatto lo abbiamo fatto noi abbiamo sintetizzato le linee guida anche in base alla qualità di queste perché valutare la qualità delle linee guida purtroppo non è cosa semplice per chi non lo fa soventemente e quindi questi sono strumenti fruibili dai diversi target allora Uposogood in questo momento vede pubblicato Uposogood su osseoporosi su decadimento cognitivo e demenze e broncopatia cronico-ostruttiva questi sono singoli quindi c'è osteoporosi per i cittadini osteoporosi per gli operatori sanitari invece le raccomandazioni per i policy makers sono in comune è stato un po' più faraginoso trovare indicazioni specifiche di alta qualità per i policy makers devo dire vediamo soltanto nello specifico per quanto riguarda all'osteoporosi dato che siamo in tema sono state lette 103 linee guida 31 di queste hanno soddisfatto i criteri di inclusione e 11 sono state poi incluse nell'analisi qualitative 5 di queste di queste 11 hanno ottenuto un punteggio di agri superiore a 50 e quindi sono state incluse questo dovrebbe fare un po' riflettere sul fatto che non tutte le linee guida poi soddisfino i criteri di qualità più elevati e quindi ci rendiamo conto anche del fatto che gli operatori sanitari non riescano poi a comprendere che cosa leggere davvero che cosa prendere davvero dalle linee guida sono state identificate 86 raccomandazioni di prevenzione primaria dal pool di esperti e questi hanno valutato 81 riguardanti i professionisti della salute 55 di queste di alta priorità 49 per la popolazione generale e 24 per i decisori politici che appunto erano in quantità inferiore Upo Sogud è diviso in raccomandazioni per la valutazione del rischio di osteoporosi primaria ma su questo non dirò molto in sostanza per attuare degli interventi di prevenzione primaria è necessario prima fare una scissione tra quelli che sono già malati e quelli che non lo sono dopodiché si possono andare a fare gli interventi mirati di prevenzione primaria quindi su Upo Sogud sono riportate tutte le fasi dell'identificazione dei soggetti a rischio e poi il percorso diagnostico di cui hanno già parlato precedentemente i relatori gli interventi di prevenzione primaria sono rivolti alle aree che sono quelle dello stile di vita quindi l'alimentazione la gestione dell'esercizio fisico la supplementazione e la cessazione del fumo di tabacco che ancora viene sottovalutato come fattore di rischio per l'osteoporosi per quanto riguarda l'ultima parte riportata in Upo Sogud il professor Baricic ci ha detto che anche coloro che sono già affetti da patologia non prendono la terapia spesso e questo è un problema quindi nel momento in cui la persona con la diagnosi è stata già definita è importante avviare un percorso di follow up e non lasciare queste persone da sole quindi le raccomandazioni finali vengono date anche per il percorso di follow up quindi coloro che sono affetti da patologia hanno la necessità di essere seguite a livello anche di a livello psicologico in modo che comprendano siano aiutate a comprendere quale sia l'importanza della patologia da cui sono affette e in modo da seguire il piano terapeutico e che si facciano inquadrare a livello multidimensionale anche per il rischio di caduta affinché appunto il percorso di follow up sia seguito correttamente io sono stata molto molto sintetica mi premeva a riportare in realtà quella che è l'importanza metodologica appunto cioè la revisione di linee guida e la sintesi di linee guida a favore delle tre diverse categorie che attualmente nel panorama italiano sembra un primo tentativo di sintesi che ha portato appunto a questo percorso poi di diagnosi e prevenzione e in questo momento sono in fieri altre due upo so good prevention sulla sul diabete e sull'obesità e speriamo nei prossimi tre mesi di portarli a termine e poi saranno pubblicate anche queste sul sul sito sul sito eginproject ecco sono stata molto breve vi ho portato ho portato semplicemente alla vostra attenzione il prodotto di uno di uno filone di ricerca dell'aging project anche per dire che non si fa solo ricerca a favore di noi professionisti della salute ma si fa ricerca non solo per curare il paziente ma anche affinché il paziente diventi consapevole del percorso a cui va incontro per determinate patologie e quindi abbiamo voluto inserire anche sul sito nella parte riservata ai cittadini questi percorsi di diagnosi prevenzione e cura che siano a favore di queste tre diverse categorie direi che sono stata abbastanza breve e vi ringrazio per l'attenzione bene ringrazio ringrazio la dottoressa Rinaldi per la sintesi è stata perfettamente nei tempi abbiamo praticamente veramente zero minuti per fare una domanda se ce ne fossero vi pregherei di farla ora prego professore professor Cisari microfono grazie sì volevo fare la dottoressa Campani ecco non la vedo sì velocissimo apprezzavo di aver utilizzato come studio i parkinsoniani che sono quelli che hanno il rischio di caduto più elevato perciò di frattura di femore mi chiedevo voi gli avete fatto anche dei test classici tipo ce ne sono tantissimi il time up and go piuttosto che latinetti e vedere il rapporto pensate di vedere poi il rapporto tra il test clinico classico e quello strumentale diciamo che i test che vengono applicati all'utente in fase di arruolamento sono più che altro test per inquadrarlo all'interno di criteri di elegibilità quindi è più che altro una raccolta in questo momento una raccolta di informazioni che ci serve per capire questa persona in che fascia di rischio possiamo metterla e capire un pochino effettivamente se può essere elegibile allo studio quindi è più un inquadramento da un punto di vista esatto neurologico più di tipo informativo potremmo pensare sicuramente di vedere magari come la situazione poi si evolve diciamo nel tempo solo che il periodo di osservazione non è così ampio da permetterci poi una rivalutazione magari nel tempo potremmo pensarlo effettivamente di recuperare questo dato e di fare una raccolta successiva storicamente da decenni utilizzati e danno una soglia di rischio perciò sarebbe interessante paragonare il rischio strumentale con il rischio clinico storico assolutamente grazie c'è un ottimo suggerimento credo che molti dei pazienti afferissero anche già una neurologia mi sembrava di ricordare o di capire quindi è possibile che alcuni di questi test magari in alcuni casi siano stati fatti ma è un passaggio importante senz'altro confermo anche io assolutamente grazie se ho un attimo di tempo faccio una breve domanda a Carmela Carmela come diciamo trasferire questi PDP questi percorsi diagnostici preventivi al decisore perché il nostro elemento è quello di rinforzare il muscolo il meccanocettore il meccanostato ce n'è tante abbiamo parlato di parte biomedica di marcatori di parte clinica come però poi trasferire tutto questo sapere tutte queste conoscenze attraverso degli strumenti alla parte decisionale fare in modo che diciamo aging voglia dire veramente healthy aging grazie mi hai fatto una domanda veramente difficile è difficile dare risposta a questa domanda perché i relatori cosa hanno detto stamattina in apertura diciamo spesso le stesse cose da anni anni e anni non riusciamo ad arrivare a un punto quando abbiamo fatto la sintesi della letteratura delle linee guida rivedendo anche gli aggiornamenti delle linee guida abbiamo visto che negli anni si discostano di poco oppure poi ad un certo punto interviene un nuovo studio rilevante e cambia le cose altrimenti per decenni magari le linee guida restano allo stesso punto e quindi le evidenze le abbiamo i decisori politici vengono i tavoli tecnici informati periodicamente a livello centrale di quelle che sono le evidenze che possano portare a una strutturazione strategica a livello organizzativo ma c'è proprio quello stacco in cui non si riesce a passare alle volte i messaggi nel modo corretto i messaggi vengono passati in modo corretto quindi io non ho la risposta a questa tua domanda cioè come possiamo fare noi possiamo sicuramente fare quello che stiamo facendo in modo più efficace quindi iniziare a creare degli strumenti perché la sintesi di linee guida fino a questo momento non era stata fatta per i decisori politici quindi con Upo Soguzza ad esempio abbiamo iniziato a fare una sintesi rivolta anche ai decisori politici quindi abbiamo iniziato a creare uno strumento che possa essere portato così com'è ad un tavolo tecnico quindi non una parte di linee guida ma una sintesi in cui diciamo signori queste sono le evidenze queste sono le evidenze per voi di alta qualità e le potete prendere in considerazione quindi adesso anche sul territorio nuovarese inizieremo ad avere un rapporto più stretto anche con i decisori politici ma sappiamo che questo a livello locale non basta poi per attuare dei piani diagnostici e preventivi su larga scala però possiamo iniziare creando appunto degli strumenti visibili e tangibili da portare ai tavoli tecnici ripeto più che creare degli strumenti e avviare delle anche campagne informative da questo punto di vista noi non non riusciamo a fare in questo momento e davvero e voi che lavorate insomma in ambito medico da molti anni sapete quanto spesso ci sia una discrepanza tra quelle che noi sappiamo essere le evidenze scientifiche e poi farle applicare correttamente a livello organizzativo e quindi avere un input a livello decisionale e politico io credo che la cornice di tempo nella quale le squadre non necessariamente politiche ma le squadre amministrative si muovono è ancora troppo breve e non si riesce ancora a vedere fuori per poter decidere qualcosa di oltre credo che tutti abbiano un perimetro attorno oltre il quale non è lecito andare hai detto tu le linee guida sono sempre le stesse ma non solo in questo ambito in tutti gli ambiti per anni fino poi al lavoro chiave che magari ti fa cambiare completamente visione completamente algoritmo quindi probabilmente la risposta potrebbe essere fare in modo che guardino un po' oltre il mandato che gli è dato e guardare oltre bene grazie se non ci sono domande chiudiamo la sessione grazie